I colleghi di lavoro non la vedevano dall'inizio della settimana. Il telefono era muto. Inizialmente avevano pensato al riacutizzarsi di una delle patologie dalle quali era affetta, ma quel silenzio ha fatto destare più di un sospetto. E così hanno deciso di andare a vedere di persona la situazione. E si sono diretti nel suo appartamento, in via di Novoli, a Firenze. Nessuna risposta neanche al campanello. Così è scattato l'allarme. I soccorritori sono entrati dalla finestra, al quarto piano di questo condominio popolare, ma per la donna, 54 anni, non c'era più niente da fare. Era morta ormai da giorni. Il corpo, complice il gran caldo di questo inizio d'estate, si stava già decomponendo, tanto che tra le mura domestiche c'era un forte odore che era stato avvertito anche dai vicini, i quali in un primo momento avevano pensato ad un malfunzionamento dello scarico delle acque chiare. Sul posto per la rimozione del cadavere, gli uomini della misericordia di Firenze intervenuti con le tute anticontaminazione e gli agenti della squadra mobile della polizia che hanno aperto un'indagine. Al momento sembrano esserci pochi dubbi che l'uccidere la donna possa essere stato un malore, visto soprattutto il suo precario stato di salute, ma gli accertamenti vanno avanti per escludere qualsiasi altra ipotesi.